ciao bella raga benvenuti in questo nuovo video da ciro allora io vi ringrazio i ragazzi che mettete i vostri commenti siete tantissimi vi voglio bene col cuore mi raccomando continuata sempre così abbiamo un altro video sempre di andrea zenga e rosalinda cannavo rosalinda riprende con telefonino e cambia l'effetto lo fa diventare un'altra persona noi andremo a vedere questo effetto di rosalinda che ha fatto suo andrea guardiamo ragazzi ti sei svegliato stamattina ti vedo un po diverso che filtro ho messo? non ti ho messo nessun filtro mi sa che non hai riposato molto bene stanotte no con quel rumore del codizionatore si pensa un po allo stadio capito fa un effetto adrenalina però non è che si riposi benissimo amore racconta a tutti cosa è successo ieri che hai perso le chiavi no vabbè bastere per un altro storie per raccontarlo mi hai accusato un'ora di aver perso le chiavi di casa e alla fine è arrivato fuori dopo io ti avevo chiesto anche se per caso le avessi messo tu capirai oltraggio sei anche rimasta male alla fine è venuto fuori che me l'avevi messo in una tasca dello zaino che io non sapevo neanche che esistesse e quindi la colpa è stata tua no in realtà semplicemente siccome gira sempre con lo zaino aperto io ovviamente per evitare che le perdesse le avevo messe in una tasca chiudendo la cerniera poi ovviamente mi sono dimenticata e lui non le trovava perché ovviamente ha controllato lo zaino ma non ha aperto tutte le tasche perché è troppo complicato ma non sapevo l'esistenza di quella tasca addirittura ovviamente non volevo essere perfida solo con Andrea ma mi sembra giusto mettermi anche questo filtro che è veramente osceno amore mi ameresti lo stesso se fossi così guardami ma certo ovviamente si mamma mia non ci crede nessuno eccoci qui ragazzi avete visto l'effetto che ha fatto su Andrea dopo l'ha fatto anche per lei per vedere come di persona e gli chiede Andrea ti piace anche così? Andrea risponde sì mi piace anche così che tenero che è Andrea bravissimo bravo 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 complimenti hanno finito di fare le vacanze lavoro adesso sono a Roma per sponsorizzare qualcun altro comunque ragazzi avete visto ormai Rosalinda non si ferma mai Andrea anche lui non si ferma mai da nessuna parte loro sono molto occupati per lavoro e vacanze poi c'è una notizia che dicono tutti i web che forse Rosalinda e Andrea si sposano ma non è vero ancora niente saremo a scoprire più avanti se questo video vi è piaciuto ragazzi mettete un like e scrivete un commento sotto questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da Ciro Mancino è tutto ciao bella raga ciao